Sono circa 200 i processi a rischio dopo la sentenza emessa dalla Cassazione che attribuisce alle Corti di Assise la competenza a processare capi mafia. Su quale e quanti saranno i processi interessati dalla decisione dell'Alta Corte è stato fatto un monitoraggio chiesto dal Ministro della Giustizia Angelina Alfano. Secondo la Cassazione a processare boss e picciotti di Cosa Nostra, imputati dei reati pluriaggravati con una previsione di pena di oltre 24 anni, la competenza deve essere trasferita dai tribunali alle Corti di Assise. La possibile conseguenza della decisione è l'azzeramento di tutti i processi di mafia, anche quelli già chiusi con sentenze che non siano ancora definitive. La sentenza, che potrebbe far scatenare un terremoto giudiziario, è setemessa alcuni giorni fa dalla prima sezione penale della Suprema Corte e riguarda un processo celebrato a Catania contro Attilio Amante e altri otto imputati in cui si erano dichiarati incompetenti sia il Tribunale che la Corti di Assise. Due settimane fa la Suprema Corte ha stabilito che è competente a giudicare e la Corte d'Assise. Il Governo sta lavorando per evitare, assicurato il guarda sigilli, che effetti così devastanti possano verificarsi soprattutto per i processi in corso. Faremo di tutto a continuato Alfano per evitare che ci possano essere conseguenze negative, per evitare un grande paradosso che dall'annasperimento forte delle pene per i reati di mafia possano derivare benefici per che l'attività diplomatica che Grazie a tutti.